Entro la settimana in arrivo in città altri 30 migranti. Si tratta di persone provenienti dalle regioni sul-sahariane dell'Africa, in particolar modo dal Ghana, dal Gambia e dalla Nigeria, smistati da Milano in provincia. Come chi li ha preceduti passeranno per le strutture di accoglienza del territorio, in questura per le documentazioni e quindi destinati a ostelli nel quale saranno ospitati per tutto il tempo necessario le pratiche per l'ottenimento dello status di rifugiato. A coordinare le varie tappe dall'Iter ci saranno come sempre gli uffici della prefettura, che al momento, grazie ad un turnover, può contare su una capienza in termini di disponibilità di posti letto superiori rispetto ai mesi scorsi dove più volte si è arrivati vicini al collasso. E mentre altri disperati arrivano, c'è anche chi decide di far ritorno in patria. È il caso di un pakistano di 32 anni ospitato alla Casa dell'Accoglienza che solo da qualche mese ha ottenuto la copertura internazionale. Un ritorno amaro il suo a casa sul confine con l'Afghanistan, terra in mano ai talebani, gli stessi che hanno ucciso moglie e tre figli. Una famiglia annientata, una tragedia che ha reso vana la sua attraversata per approdare in Europa e cercare una vita migliore.